Girate per il mondo ad occhi aperti. Prima o poi arriva la bella felicità che toglie il sonno. Verrà il vostro uomo, verrà la vostra donna. Verrà se avrete i nervi sciolti, se sarete una crepa in un campo, un animale in un bosco. Sono i versi riportati nel testo scritto da Norma d'Alessio dal titolo Arminio e Arminio, Marlin editore. Una biografia che l'autrice dedica a un poeta molto seguito, molto amato, soprattutto negli ultimi anni. La biografia è una testimonianza dell'amore che l'autrice ha nei confronti dei versi, delle parole espresse da Franco Arminio. Un poeta sicuramente particolare e fuori dagli schemi. Un poeta per cui è importante guardare le cose che ci circondano, che definisce sacre, senza con questo attribuire una sacralità come quella che noi siamo soliti attribuire a questo termine, quindi qualcosa che viene dall'alto, ma una sacralità tutta umana che è contenuta e insita nelle cose che noi guardiamo. Ed è da questo presupposto che parte, insieme a tanti altri sfumatori, che chi leggerà il libro scoprirà, la poetica di Franco Arminio. Un poeta particolare, come dicevamo, anche perché è molto accessibile. È un autore che si può contattare, che si può incontrare, che ama spostarsi, nonostante ami profondamente vivere in un piccolo centro della Vellinese, che è Visaccia, che è quello che ha dato i natali ai suoi genitori, nel quale lo è vissuto. E nello stesso tempo è il luogo attraverso il quale ha iniziato a guardare le cose del mondo. Quindi, pur amando vivere in un paesino come questo, ama spostarsi e portare le sue parole, i suoi versi, il suo modo di guardare in giro per l'Italia. Infatti, è sempre in giro. In questi giorni ho letto Essere nel napoletano, ma di volta in volta sulla sua pagina è possibile scoprire quanto si sposti. Dicevamo, un poeta che cambia il modo di guardare, utilizza le parole in modo preciso, le rimaneggia, le ripulisce, le definisce, ma come sostiene la stessa autrice, nel tempo tutto questo è cambiato, come è facile immaginare. Ciascuno di noi cambia, quindi le parole sono più immediate, meno sottoposte a questo attento lavoro di ripulitura, per così dire. Tante sono le particolarità di Erminio, che lo definiscono e che lo rendono un poeta sui generis, un poeta che utilizza i versi per raccontare anche di sé, ma non in una sorta di autobiografia celebrativa, quanto come l'esigenza di raccontare cose che si appartengono, ma che possono comunque essere inseriti in un flusso esistenziale che accomuna tutti. La poesia, molti sostengono, non debba necessariamente, o comunque non debba essere utilizzata in una chiave autobiografica, ma leggere i versi di Erminio è sicuramente un piacere, è sicuramente un piacere rileggerli e rileggerli e ci consentono di approcciarci alla sacralità delle piccole cose in un modo completamente differente. Possiamo definirlo un paesologo, termine che mi ha incuriosito e sono andata, insomma, ho cercato di capire che cosa si intendesse ed è un po' questo, la riscoperta attraverso uno sguardo, quindi completamente nuovo, di ciò che ci circonda, partendo anche dai luoghi, dai piccoli paesi, i paesi che Erminio sostiene essere il futuro, contrariamente a quello che è il pensiero comune. E cercare di creare una relazione, una interazione tra l'individuo e questi luoghi, che sono luoghi geografici, ma sono anche luoghi di persone, completamente differente. Infatti ogni anno si organizza, organizza o meglio, il Festival della Paesologia ad Aliano, in provincia di Matera, in Basilicata. Un modo per coinvolgere è un modo per far sì che tanti artisti si ritrovino e rivalutino i posti e quindi le relazioni in una chiave completamente differente. Per Erminio il senso civico è molto importante. La stessa autrice parla di un Arminio civico, nei suoi testi, in un modo sempre molto particolare, molto soggettivo. Si ripercorrono anche valutazioni su quello che è la relazione tra l'uomo e il territorio, un'attenzione particolare al terremoto dell'Irpina del 1980, il 23 novembre, che distrusse territori, ma soprattutto decretò la morte di tantissime persone. Diciamo quindi che Erminio è tutto da scoprire. È un personaggio particolare, ma soprattutto è un piacere intenso leggerlo. Quindi consiglio a tutti la lettura di questa biografia, scritta da Norma D'Alessio, edita da Marlin. Alla prossima!